Per diventare un esperto BIM mi ci è voluto tantissimo tempo, fatica e anche un grande investimento. In questo video ti spiego come per te può essere decisamente diverso, più semplice e più veloce. Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com, insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro. Una delle competenze che mi ha permesso di, che mi ha fatto realmente la differenza nella mia carriera lavorativa è stata diventare un esperto BIM, perché questo mi ha aperto, nonostante magari la giovane età, a tante opportunità lavorative che altrimenti non avrei avuto. Tuttavia per avvicinarmi al BIM, per diventare un esperto BIM ci ho messo parecchio tempo e anche parecchi soldi, nonché parecchia fatica perché ho dovuto rifare più volte dei corsi. A tal proposito, io stessa sono stata vittima di un falso mito del mondo della formazione, e cioè che più ore fai e meglio è. Mi spiego meglio, quando mi sono laureata ed ero, nonostante mi sono laureata solo un anno fuori corso, comunque insieme a me si erano, quindi insomma presto per il mondo della progettazione, insieme a me si erano laureate altre 150 persone solo nella mia stessa sessione di laurea, solo nel mio corso di laurea. Sapevo che dovevo differenziarmi per sicuramente emergere nel mondo del lavoro e cercavo un corso per specializzarmi appunto nel BIM, perché già iniziavo a vedere che c'era molta richiesta lavorativa da questo punto di vista. Mi sono fatta allettare da un master, un master di un anno, quindi a livello di tempo era tanto, dopo 5 anni di università, anzi 6, fare un altro master di un anno voleva dire allungare ancora di più i tempi per il mio effettivo ingresso nel mondo del lavoro, e tra l'altro nemmeno poi così economico, perché l'ho pagato ben 6.000 euro. Tutto questo tempo e tutti questi soldi abbindolato, diciamo, dalla parolona master, da un corso piuttosto complesso. In realtà poi quando sono andata a fare appunto il master sicuramente ho preso tantissime informazioni utili, mi si è aperto un mondo sul mondo del lavoro che non conoscevo, tuttavia se dovessi tornare indietro penso che farei una scelta diversa, nel senso che quello che ha fatto realmente la differenza nella mia carriera è stato diventare un vero esperto BIM, quindi io mi sono dovuta specializzare facendo più corsi oltre al master proprio sul BIM e sul Revit. Questo avrei potuto farlo sicuramente in minor tempo e sicuramente spendendo molto meno, perché non avrei avuto necessità di tutte quelle, magari di tutti quei corsi teorici che erano affiancati ai corsi pratici che c'erano durante il master. Tantissime cose secondo me potevano essere tranquillamente sfoltite, ma magari erano state messe lì nel mucchio. Il risultato è stato che, diciamo per far volume, il risultato è stato che avevamo avuto una panoramica di tanti argomenti, alcuni anche molto interessanti, ma di fatto proprio perché c'era così tanta varietà non si era potuto scendere così nel dettaglio e proprio per questo dopo cinque, anzi sei anni di università, dopo un anno di master mi sono dovuta andare a fare altri corsi specialistici per imparare effettivamente ad usare Revit in maniera molto più professionale, non dover andare lì a semplicemente aggrattare la superficie. I software BIM sono in particolare Revit, è molto semplice da utilizzare se sai come utilizzarlo, se te lo spiegano in un certo modo, ma non basta una conoscenza superficiale per fare la differenza effettivamente nel mondo del lavoro. E proprio a proposito di differenza, quello che effettivamente nella mia carriera ha fatto la differenza è stato proprio questo, non tanto il titolo master in eccetera eccetera di 800.000 ore, quanto poter arrivare davanti a un SPA e dire che ero in grado di gestire una commessa da milioni di euro in BIM anche da sola, perché avevo ormai acquisito le competenze necessarie per il BIM. Quindi quello che ha fatto realmente la differenza nella mia carriera è stato specializzarmi nel BIM, non tanto fare corsi affascinati dai paroloni, diciamo fare 300.000 ore di formazione così vasta e varia, quanto piuttosto focalizzare le mie energie in un unico argomento. Scegliere il BIM, scegliere Revit e andare in profondità finché proprio non ne avevo una vera e propria padronanza. Questo è quello che mi ha spinto a creare il mio centro di formazione con il mio metodo che affianca a nozioni di tipo teorico delle lezioni completamente pratiche che ti mettono da subito in mano il software. Io non amo le chiacchiere, sono una persona concreta e so quanto è prezioso il tempo nella vita dei progettisti, perché lo sono io in primis. Ci sono tantissime cose, tantissime responsabilità, correre in cantiere, fare una pratica edilizia nei termini di scadenza, non possiamo perdere tempo a disegnare, dobbiamo investire il nostro tempo a progettare e dobbiamo farlo con il software giusto. Revit è quello che mi ha permesso di fare questa differenza nella mia carriera lavorativa ed è quello che può permettere di farlo anche a te, però puoi scegliere, puoi scegliere farlo in una maniera molto tortuosa e dispendiosa a livello di tempo, cercando magari da solo dei contenuti gratuiti nel web o affidandoti a super percorsi lunghissimi di tantissime ore che in realtà fanno secondo me tante chiacchiere e nient'altro, oppure puoi affidarti al mio metodo che è ormai convalidato da centinaia di studenti, puoi vedere le loro testimonianze, già dalle prime lezioni ottieni subito dei risultati concreti e sei già in grado di mettere mano al software. Questo perché la modalità con cui tengo i miei corsi è la modalità che io avrei desiderato trovare quando ho iniziato come studente, cioè una modalità pratica che ti spiega in maniera semplice i contenuti complessi in modo da renderti subito operativo e quindi anche produttivo nel mondo del lavoro. Ecco perché il mio metodo ti permette di essere immediatamente competitivo e produttivo già dalle prime lezioni. Ma non credere a me, credi con i tuoi occhi a ciò che ti sto dicendo, iscriviti al mio corso gratuito sul Revit e sul BIM in modo che puoi toccare con mano la modalità in cui spiego e farti già un'idea sulle potenzialità di questo fantastico software. Per accedere al corso gratuito sono nuove lezioni, ti arrivano una al giorno via email, qui sotto trovi un link, clicca sul link e verrai indirizzato ad un form dove inserire la tua email, fai attenzione a scriverla correttamente perché appunto via email riceverai le nuove lezioni del corso. Non mi resta che darti appuntamento all'interno del corso gratuito e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!